D'altra parte, nel bel mezzo delle mura, se scappa scappa, dov'è che vai a farla? Buongiorno tutti quanti! Continua il nostro viaggio in Provenza e finalmente siamo arrivati nel Camargue, una regione della Provenza abbastanza piatta, abbastanza secca e ricca di saline e direi piuttosto paludosa. In questo momento stiamo per entrare in aigues morgue, aigues mortes, acqua e morte. L'estra pronuncio è sempre fantastico. All'italiana acqua e morte. La mia impressione quella decorazione lì è un po' infallica, perché... Questo albero è stranissimo. Non ho mai visto una roba del genere. Avete detto che cos'è? Scrivetelo nei commenti. Siamo alla fortezza di aigues mortes, l'ingresso costa 7,50€, un po' caruccio, però insomma la vista può durare anche fino a due ore, quindi sappiatelo. Ora ci addentriamo all'interno di questa fortezza e visiteremo i suoi bastioni. A presto! 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 insomma c'erano i gradini, uno si sedeva qua e faceva quel che doveva fare d'altra parte nel bel mezzo delle mura se scappa scappa dov'è che vai a farla? mi scoccia a dirlo ma avevo ragione Amba ha espresso il desiderio che vorrebbe essere lì in questo momento lì stiamo morendo dal caldo e oggi mi hanno messo pioggia pieno di nuvole, pieno di nuvole bene finita la vista, l'accortezza facciamo quattro passi città we're headed to forever we're headed to forever we first met with you at the regret of a lifetime but used to talk and led me on to read you if I like dreams were made a flip of a script we went together the two forever we had all the reasons to split and we made a funnel went up to forever the day came e quindi niente ci siamo dimenticati anche questa volta di concludere il video quindi forte pazienza e alla prossima ragazzi ciao ciao non so che fiori siano, che pianta sia ma è fantastico guardate che fiori 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 e questo è il mio giardino ideale andrà a lavoro e compra se avrò successo su youtube li comprerò questo giardino grazie a tutti